Cesenatico Web TV è la prima finestra della città che si affaccia sul mondo. È l'occasione migliore per navigare tra le immagini della cultura e nelle tradizioni della città del porto canale, ma è anche il primo spazio virtuale in cui poter dir la propria. Sei un musicista, un artista e vuoi farti conoscere Cesenatico Web TV? Sei un cittadino e vuoi segnalare una proposta o dire la tua? Cesenatico Web TV. Sei un turista o vuoi conoscere le bellezze della città prima di viverla a pieno? Cesenatico Web TV. Il tuo spazio, la tua visione, una città tutta in un spettacolo. Cesenatico Web TV, ti aspettiamo!